Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale, oggi siamo qui con Rust e senza la voce però quindi abbiate un attimo di pazienza che vi spiegherò un paio di cosette allora qualche giorno fa avevo scritto già sulla pagina facebook che ero ammalato infatti è una settimana che sto influenzato, adesso pian piano sta tornando la voce ancora non pienamente come avrete già sentito quindi ragazzi un attimo di pazienza in questi giorni dovete pazientare perché non sono riuscito a registrare praticamente niente ok mi sono anche spezzato una coscia, benissimo vabbè andiamo con calma fino a quando non si ripiglia l'allumino quindi praticamente i video che stanno uscendo questi giorni, tra l'altro neanche tutti i giorni sono quelli che avevo già da parte, già registrati perché proprio non ci riesco anche questo sarà molto breve ragazzi perché non ce la faccio proprio a parlare quindi era giusto per farmi sentire e dirvi che sono ancora vivo e che i video che stanno uscendo un po' a rilento e un po' diciamo pochi aia è per questo motivo che sono stato male, sto ancora male quindi ancora non riesco a registrare adesso ho approfittato in questo momento che mi sta tornando un po' la voce per dirvi che appunto i video arriveranno questi giorni però uno, cioè due al giorno non ce la faccio proprio anzi qualche volta magari salterò anche un giorno perché non ce la faccio tra l'altro come state vedendo c'è qualcosa di diverso perché io adesso ho riavviato Rust dopo veramente una settimana e c'è stata una patch quindi ci saranno un po' di cose da scoprire poi pian piano con i prossimi video magari vedrò cosa hanno implementato cosa hanno cambiato, adesso la prima cosa che ho visto sono appunto il crafting delle risorse e per quanto riguarda poi il server magari ve ne parlerò più in dettaglio nei prossimi video però sostanzialmente il server degli sportiveggianti ragazzi non c'è più è scaduto il mese ho deciso di non farlo rinnovare anzi ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare di nuovo il ragazzo che ce l'aveva donato a tutti quanti e lui era intenzionato a rinnovarlo anzi me l'ha detto se più avanti ci ripenserò, ci ripenseremo è disponibilissimo a riprendere il server però ragazzi ci sono state tante cose che non mi sono piaciute cioè alcune diciamo che mi ha fatto piacere conoscere molti di voi molte persone serie, molte persone intelligenti che si sono divertite che si sanno divertite ma allo stesso tempo non mi è piaciuto incontrare determinate persone che hanno solamente dato fastidio visto che comunque non c'era io l'avevo detto già dall'inizio che il server era nostro, era di tutti quindi diciamo non è che c'era una persona che comandava al di sopra di tutti ma dovevamo collaborare tutti quanti cosa che sinceramente devo dire non c'è stata se non da parte di alcune persone, rarissime persone che appunto hanno aiutato me e hanno aiutato l'admin a gestire il tutto ok intanto sto vedendo un po' in giro non so vedo degli animali rossi che prima non c'erano non so se preoccuparmi tra l'altro forse sto morendo anche di fame non c'ho la carne cotta vabbè, non fa niente andiamo a vedere un attimo questi animali così per capire se sono dei lupi rossi forse radioattivi più cattivi probabilmente morirò brutalmente ma non fa niente perché sostanzialmente vabbè questo era quello che volevo dirvi poi magari come detto ne parleremo più approfonditamente del server però adesso veramente non ce la faccio ho voluto fare questo video giusto per farvi sapere sono cattivissimi ok e niente quindi ragazzi per il momento i video saranno un po' sporadici quelli che ho già registrato in passato qualche settimana fa arriveranno pian piano Rust tornerà quando riuscirò a riregistrare bene adesso come detto dovrò riniziare su un altro server parleremo appunto bene anche del fatto degli sportiveggianti comunque l'unica cosa da dirvi è che il server non c'è più l'indirizzo IP credo sia ancora cioè esiste ancora perché poi magari quel server è stato dato a qualcun altro ma non è il mio server quindi cioè il mio quello del ragazzo che ce l'ha donato il nostro server e niente per il resto comunque io spero magari di rincontrare qualcuno qualcuno di quelli che hanno giocato insieme a noi perché ve ne eravate accorti anche voi che c'erano persone che rendevano il tutto più difficile ma così come accade in tutti i server non è che sia solo quello il problema solo sul server degli sportiveggianti il problema del server degli sportiveggianti è che era un server nato in questa già l'avevo visitata sto facendo sopra e sotto vabbè ce ne andiamo era un server nato in comunità per tutti dove tutti dovevamo collaborare per renderlo appunto vivibile cosa che purtroppo non è successo io l'ho ripetuto in tantissimi video ma purtroppo pochissime persone sono state realmente interessate che cazzo morto bene realmente interessate al server quindi pochissime hanno aiutato a mandare segnalazioni e cose del genere quindi visto che anche gli admin in questo periodo avevano poco tempo a disposizione io ero solamente un tramite quindi non è che potessi fare più di tanto ho preferito evitare ho preferito evitare perché poi cioè ne andava anche del vostro divertimento di quei pochi che o meglio tanti dipende dai momenti diciamo di quelli che si divertivano veramente non volevo a quel punto preferisco che vi spostiate ci spostiamo tutti su un altro server magari gestito da una community dove ci sono molti amministratori che cacciano gente subito senza pensarci due volte e basta così giochiamo tutti meglio e buonanotte è stata un'occasione ci abbiamo provato non è andata bene mi dispiace però pazienza l'importante è che comunque continuiamo a divertirci tutti quanti anche se non lì ma altrove e niente io adesso ragazzi concludo qui il video perché sto morendo se nei prossimi giorni non vedete i video adesso sapete il motivo l'avevo scritto anche su facebook quindi mi raccomando continuate a seguirmi anche lì perché cioè mi è più facile anche comunicarvi le cose e vabbè niente allora noi ci vediamo con un prossimo video e un saluto a tutti da quel tale Ale